io volevo in quella partita a responsabilizzare Marchetti ci potrebbe essere utile far capire che poi non possiamo fare a meno di un futzai che non sia il playmaker della squadra deve essere chiaro questo io non sono mai deluso prima bisogna il diversi per essere delusi invece conoscendo bene la realtà conoscendo bene gli uomini conoscendo le loro qualità o le loro debolezze cerco di portare sempre la massima espressione volevo far capire a tutti che abbiamo bisogno di un futzai come abbiamo bisogno dei marchetti come abbiamo bisogno di tutti gli altri